L'acqua dietro, lo facciamo dietro, lo facciamo dietro, lo facciamo dietro, però che a capo all'antica e all'epoca non ci chiamassi parrucchieri, non i capelli, ma non ci chiamavano i capelli. Se andavano a casa per casa, si facevano i capelli a partire? Era una capo che non era niente. Era una capo che facevano, era una capo all'antica. Venivano tutto qua sotto, sopra quale io. Poi dietro ci mettevano tutte le pizze. C'erano oltre 400 per rete. Per rete, venivano i capelli, ma non ci chiamavano i capelli, ma non ci chiamavano i capelli, ma non ci chiamavano i capelli.